L'ultima sconfitta per i rossoneri a Taranto nel derby, finì 2 a 0. Martinelli. Ma si gioca. Deli. Un break, il contropiede del Foggia. 4 contro 4. Amet Loh in qualche modo, Mazza, limite dell'area di vore, Mazza! L'assist del solito bianchimano, sempre Leonetti. Anche De Francesco in zona, sale il nuovo entrato, Loh. Dancio che però è troppo lungo, quella che si perde. La Matera ci informano di grandi parate, di Peruchini, portiere del Lecce. Partita che lo ricordiamo, potete seguire, su Sportube. Stiamo trasmettendo in diretta. Mazza. Solito asse con Rubin. Amet Loh mette il pallone in pallo laterale. Tra poco entra Gerbo. Agnelli. Lancio per Mazzeo. Scattato in posizione regolare. Mazza, arriva a rimuovere. Mentre partono 5 minuti di recupero. Gerbo prova a lanciare Mazza. Chisura. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.